Allora, dunque, eravamo il Master 4. Adesso vogliamo vedere con tutta la macchina Questa all'interno praticamente Questa e questa Questa e questa Aspetta, eh Il passaggio di Sergio per esplorare nuove aree Aspetta Eh, no, prima Ah, no, mi sale davvero male per forza Vabbè, eh Scopo E devo dire Certo E poi Che Sì Detto Passi e andiamo a scalare questo vizio j j j j j j j j j e il punto è fare una cosa vado, finito andiamo qua e qua c'era un camp ok, qui dice la zona bisogna andare praticamente al niente adesso vediamo se Sì, aspetta Merda Ma vedi, ma secondo me non succede niente C'è lui E 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